Bene, buongiorno a chi è qui in sala oggi e a chi ci segue anche da remoto. Come sempre queste conferenze stampa facciamo in modo che si possano seguire anche l'esterno, nonostante siano state un pochino ridotte e rilassate le misure per il Covid. Quindi è stato possibile anche accomodarci in sei al tavolo oggi. Bello che questa sala stampa possa essere di servizio alla cultura, oggi in particolare quella musicale, per presentare il coinvolgimento dell'istituzione della Santa Sede nell'anno dedicato al 150esimo anniversario della nascita del compositore Lorenzo Perosi, la cui vita e attività si sono sviluppate per chi come me è meno preparato sulla cultura musicale tra il XIX e il XX secolo. L'abbiamo ascoltato mentre entravamo alcune sue opere, il DSI in particolare, e direi che la cultura, la bellezza e forse ancora di più l'armonia della musica sono una risposta anche alle divisioni del tempo in cui viviamo. In questo senso sono lieto che siano gli ospiti e i redatori di oggi a compensare la mia ignoranza in materia musicale con la loro conoscenza, il loro lavoro e gli anni messi in campo per quest'anno che generosamente mettono a disposizione di quanto sono qui presenti e che ci seguono virtualmente. Allora darei subito la parola a loro, a cominciare proprio da Sua Eccellenza Monsignor Pozzo, sovrintendente della Cappella Musicale Pontificia.